I militari del Comando Provinciale di Chieti hanno individuato 100 operazioni relative ad incassi di ticket VLT per un importo totale di 85.000 euro, effettuate per eludere la normativa antiriciclaggio. Nello specifico, le fiamme gialle della tenenza di Ortona hanno effettuato un controllo nei confronti di una sala videolotteri che si trova ad Ortona per verificare il corretto addempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e tracciare i flussi finanziari. Dall'attività ispettiva è stato possibile accertare che venivano falsamente ricondotte le vincite agli apparecchi da intrattenimento ad ignari giocatori, permettendo così ai reali beneficiari di operare in modo anonimo per aggirare la normativa antiriciclaggio secondo la quale i gestori delle sale devono procedere ad identificare e verificare l'identità di ogni cliente che richiede incassi di ticket superiori ai 500 euro. In particolare, dopo essere stati analizzati gli incassi di diversi avventori, è stato possibile rilevare che a propria insaputa alcuni avevano maturato vincite nonostante si trovassero al lavoro, fuori dal territorio nazionale o addirittura non avessero mai giocato alle videolotteri. Il titolare dell'esercizio commerciale e quattro dipendenti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Chieti. Ciascuno dei soggetti rischia ora una pena fino a tre anni di reclusione ed una multa da 30.000 euro.